salve sono vaeria pugeddu di recente mi sono iscritta su tik tok per sentirmi più giovane mi sono sentita il triplo più vecchia ci sono solo minorenni e credo che il figlio della ferragni alzi l'età media e ho notato che gira una challenge un po inquietante in pratica le ragazzine devono prendere degli auricolari e farli girare due volte attorno alla loro vita per dimostrare di essere abbastanza magre una cosa assurda una cosa ridicola io comunque l'ho fatto e ci sono riuscita usando delle cuffie bluetooth ma ecco cose come questa non giovano sicuramente l'autostima delle ragazze specialmente quelle più piccole di età ma anche di statura tipo me ad esempio quando una persona famosa più che altro una donna magari è meno magra rispetto a prima l'internet ci tiene a diffondere delle foto mortificanti di questa persona e questo avviene per due motivi uno il fotografo è un cane ti prende tipo quando sei così non lo so come un cerbiato che sta per essere investito oppure la maggior parte delle volte è una semplice questione di prospettiva cioè dal basso tutto sembra più grande quelli che si fanno le foto al cazzo questo concetto qua hanno capito al volo e sono riusciti a rompere le palle anche a giovanna botteri una giornalista estremamente in gamba che semplicemente non ha voglia di tingersi i capelli e quindi li ha bianchi fine fine e la sua risposta su internet è stata estremamente elegante estremamente matura ma nel profondo parlando di capelli bianchi io speravo si trasformasse tipo in tempesta degli x-men iniziasse a mandare fulmine alle persone che la insultavano anche se poi sarebbe dovuta tornare al lavoro per annunciare l'allerta meteo ma ecco giovanna botteri è una giornalista non rientra all'interno della sua professione il doversi truccare o vestire in un certo modo cioè come se io andassi da cannavacciuolo e gli dicessi che per cucinare deve stare in giacca e cravatta c'è da dire che se cannavacciuolo avesse ricevuto gli stessi insulti che ricevuto giovanna botteri probabilmente gli ortopedici italiani sarebbero milionari e attenzione io non sono per amare incondizionatamente il proprio corpo no io penso che dobbiamo trattare le parti del nostro corpo come dei colleghi di lavoro alcuni ci piacciono di più alcuni ci piacciono di meno ma in qualche modo ci troviamo a collaborare a fare ogni giorno la stessa cosa che nel mio caso è procrastinare e ad esempio non sono neanche fissata con l'estetica a me non preoccupa il fatto che usando la mascherina possiamo tutti ritrovarci con le orecchie a sventola perché ce le ho già ma ecco io non odio le mie orecchie io trovo un compromesso con loro dico ok orecchie voi mi fate sembrare un folletto della gringo ma io nel 2006 vi ho fatto ascoltare fumo e cenere dei film lei 20 volte di fila siamo pari adesso scherzi a parte è un problema il fatto che una ragazzina possa sentirsi a disagio col proprio corpo possa vergognarsi di se stessa e temere determinati insulti online e secondo me il problema è proprio il web cioè il problema è che con la tastiera dello smartphone oppure con quella del computer scriviamo tutti in maniera molto veloce e con molta facilità ed ecco secondo me se i hater si trovassero tipo a dover scrivere certi commenti di proprio pugno con penne calamaglio ritrovandosi a dipingere la miniatura della prima lettera a modi mona ciamanuensi cioè secondo me già la prima g di grassona perderebbero la voglia non lo so secondo me io ho appena trovato la soluzione al cyberbullismo prendi appunti che ti la torre per cortesia ok scherzi a parte c'è da dire che la maggior parte delle persone che lascia questo tipo di commenti non sa scrivere figuriamoci colorare dentro i bordi